Una prova riservata alle femmine di 4 anni, il premio in no cross. Sono 13 le concorrenti agli ordini dello starter. Prima fila per Belen, Brezza, Laxmi, Bahamas, Baltimore, Azac, Bye Bye Laser, Bianca Niva SM, Blerta Colle e Bugatti ferma. Seconda fila per Bianca Griff, Banda Larga Jet, Bia Belong, Beatrice FS e Breda Lewis. Retrati numeri alti. Brezza, Laxmi, alla chiusura delle ali, assume decisamente il comando delle operazioni. I confronti di Belen e Baltimore, Azac, filtrata dalla seconda fila Bianca Griff in terza posizione. Ha sbagliato Bianca Neve SM. Lo stesso ha fatto Bahamas ed entrambe finiscono squalificate. Lancio in 14. La figlia di Ganymed della Indal a comandare le operazioni a buona andatura. All'argo interviene Blerta Colle. Ma Gallucci fa capire chiaramente di voler agire al comando. 37 e mezzo giro per la leader, Brezza, Laxmi. Vicinata adesso da Blerta Colle, la rottura improvvisa del numero uno Belen. E così Blerta Colle può anche un attimino parcheggiare, ma invece va dritto sulla leader che ha problemi in curva. Sbaglia anche Brezza, Laxmi. E così a circa 700 metri dalla conclusione Blerta Colle in fuga. Inseguita innanzitutto da Bianca Griff, poi da Bye Bye Laser e Breda Lewis. Chilometro in 1.13.8 Bianca Griff deve ricucire 3 o 4 di gap sulla leader e fuggitiva Blerta Colle. 3 quarti di miglio in 1.28.5 Si muove Bye Bye Laser, prova ad agganciare la leader che solitamente negli ultimi metri va un po' in difficoltà. Vediamo che succede, entra in retta con margine netto ancora. Blerta Colle la insegue Bye Bye. Bye Bye sta per agganciare la battistrada che però si difende bene. Blerta Colle avvicinata da Bye Bye Laser. Fin sul traguardo Blerta Colle va a vincere su Bye Bye Laser mentre a circa 50 metri è Bianca Griff a cogliere la terza moneta. Sul mio cronometro 1.59 scarsi. La media dovrebbe aggirarsi intorno all'1.14.3 per la vincitrice Blerta Colle che l'ha fatta tutta ad un fiato. La figlia di Holgersoll e Honda Killer Gar è andata subito all'attacco dei primi. È passata sui problemi di Brezza Laksmi a circa 700 dalla conclusione. E poi si è difesa egregiamente da Bye Bye Laser che ha faticato ad ingambarsi e non è riuscita nell'aggancio. Al terzo, come dicevamo, Bianca Griff. Questo è l'arrivo probabile ed ufficioso. Vi diamo anche i numeri. Sette Blerta Colle, cinque Bye Bye Laser e nove Bianca Griff. Alla prima da Napoli.